questo attacchiamo si papà prendimi questo pallone vedi un po' dentro il pallone buono a papà no ti amo quando te va si guarda che bello aspetta non ci sta bene? si attacchiamo questo come no? buongiorno buongiorno si si aspetta ti passo a mia moglie il padre è tutto meglio di me ti amo? senti il foto padre pronto? ciao ciao si adesso c'è la ora di un negozio no è parecchio si perché? ah certo certo ti avrò di due uno papà allora guarda allora guarda saranno guarda su per giù una decina d'anni perché poi ha lavorato in nero diciamo quindi che non risulta no perché infatti doveva doveva fare un canale però siccome lei percepisce la pensione perché ha chiuso l'attività e quindi non però no mio padre finisce il più il volo vi iscrivetevi al canale grazie a tutti e a tutti e a tutti ah ok oh